I giudici di pace di Lecce hanno annullato una cartella di pagamento da oltre 130.000 euro relativa a contributi previdenziali IMSS. Il motivo? I contributi erano stati già pagati dal contribuente. Le recenti sentenze del Tribunale di Lecce evidenziano ancora una volta la mancanza di dialogo tra cittadini e gli enti delle pubbliche amministrazioni che inevitabilmente poi comportano maggiori contenziosi, maggiori processi e vanno a ingolfare la macchina della giustizia. Ecco perché insieme ad alcune associazioni, partite IVA nazionali, l'associazione Forense Camera Civile Salentina, Movimento Consumatori abbiamo fatto varie istanze alle istituzioni al fine di evidenziare questo problema e di favorire il maggior dialogo e confronto con gli enti delle pubbliche amministrazioni.